Battaglia culturale, non voglio imporre nessuno a nessuno. Battaglia culturale, dice Cacciari, ma però c'è anche un altro problema. Poi tutti i giorni veniamo messi di fronte, tempestati da il default, il pericolo fallimento, eccetera, eccetera, eccetera. Cacciari, però su questo non è che gli si può rispondere, a noi del default non ci importa nulla, dobbiamo cambiare stili. Guardi, nell'anno più tragico dell'economia occidentale, due anni fa, due voci dei settori economici non hanno subito nessuna riduzione di spesa. Sa quale sono? Le armi, il settore delle armi e il settore della pubblicità, cioè il bastone e la carota. Per farci comportare da cretini come siamo quando andiamo nei supermercati, dato che nel fondo non siamo... L'impresa, il sistema delle spede, spende molto, investe moltissimo per indurre dei bisogni fittizi, per impedirci di andare alla autenticità dei nostri bisogni e dei nostri desideri, per costringersi a fare i pecoroni. Appunto, con le spese inutili, con degli sprechi, quindi le prime, se vogliamo davvero essere austeri, le prime spese che bisognerebbe tragliare sono quelle sugli armamenti e quelle sulle pubblicità. Spese inutili, spese che distolgono dall'autenticità dei nostri bisogni. Mi fate fare un rapido giro di opinioni, gli amici della Lewis?